E l'opera ai giovani? Si dice che l'opera è un linguaggio vecchio, è vero questo? Si possono avvicinare? Tutto è vecchio, tutto è giovane, ci sono categorie che appartengono, intanto non esiste più un conflitto secondo me tra vecchi e giovani, almeno come esisteva una volta, sebbene il nostro paese è in questo molto arretrato perché in effetti la tensione di potere appartiene sempre a... e i vecchi non mollano, è terribile, questa cosa è terribile, ci sono paesi appunto come l'Inghilterra, un regista a 34-25 anni, non può già lasciare il passo da altri. Io stesso mi metto a disposizione molti ragazzi perché penso di aver imparato molte cose e penso di poterle insegnare. Ma il linguaggio dell'opera non è assolutamente un linguaggio, diciamo, per addetti ai lavori oppure, non so, una volta esisteva anche per esempio una certa ritualità nell'andare a teatro, quindi magari, che ne so, le prime, quindi tutta una formalità che allontana magari il giovane perché dice no, io vado a sentire il concerto, sto con altre persone giovani, perdonate il telefono.